Oggi è necessaria la mia presenza in fabbrica. Test conclusivi, campioni disponibili. Guarda, un messaggio di mio figlio. Urgente, papà ho bisogno di te questa sera, disegno per scuola, immaginare la mia città di domani. Ha capito tutto questo ragazzo. Noi di AGC costruiamo senza sosta il futuro. Da quando la mia società AGC Glass Europe mi ha incaricato di dare un ulteriore impulso all'innovazione, casa mia è diventata un autentico laboratorio di test di ricerca per il vetro piano, che porterà certamente grandi novità in futuro. Aspetta a me comunicare le aspettative dei clienti ai ricercatori. È sorprendente quello che si riesce a fare con il vetro e le sue incredibili tecnologie. Nelle auto le sue forme complesse e avvolgenti ci mettono a contatto con il mondo esterno in pieno comfort e sicurezza. Wow, il vetro consente agli architetti di pensare soluzioni sorprendentemente audaci. Che il nostro vetro rende realizzabili. È così che si ottengono gli edifici più belli in Europa. E non ci fermiamo qui la nostra presenza commerciale e in tutto il mondo. Si inizia con il float, questo grande nastro di vetro continuo. Trasformato dalla nostra competenza in una meraviglia tecnologica e industriale, risponde a numerosissime esigenze. Per l'edilizia, l'arredamento di interni, l'industria automobilistica, i trasporti, l'energia solare e altri settori di punta. Dai paesi occidentali a quelli orientali dell'Europa, dove siamo stati pionieri, i nostri 18 forni float producono ogni anno quasi 4 milioni di tonnellate di vetro, consegnate ai nostri 100 centri di trasformazione o direttamente ai nostri clienti. La nostra grande specialità, i rivestimenti. Questi ossidi metallici depositati sul vetro conferiscono eccellenti proprietà di isolamento contro il freddo o di protezione dal calore o anche entrambe allo stesso tempo. E mediante altri procedimenti industriali, il vetro può inoltre ritardare gli incendi, proteggere dai rumori, dagli incidenti, dalle frazioni, dagli sguardi indiscreti, ma anche trasmettere l'energia solare, trasformarsi in un supporto informativo e persino salvaguardare la salute. Il vetro ovviamente abbellisce gli spazi, diventa specchio, si arricchisce con svariati colori e motivi decorativi. E' laccato, opacizzato, serigraffato, stampato, elettroluminescente. E le strabilianti proprietà del vetro trovano applicazione anche nelle nostre auto. Sempre maggiore il bisogno di luce, sicurezza, comfort, eleganza e migliori prestazioni ambientali. Ed ecco allora i parabrezza panoramici e termici, finestrine a energia solare, comando vocale o a trasmissione luminosa variabile, il vetro idro-repellente. Sono tante le funzionalità che il vetro è in grado di supportare. Può anche visualizzare informazioni, rilevare pioggia, integrare antenne. Ah, il mio collega della ricerca e sviluppo mi aspetta. Eccolo di nuovo il mio ragazzo. Come trasformare la tua città nella più bella di tutte? Lascia andare la tua fantasia, le possibilità del vetro sono infinite. Per arrivare a questo punto il nostro centro ricerca e sviluppo è perennemente in fermento. I nostri ricercatori nei laboratori o sul campo lavorano ogni giorno alle soluzioni del futuro. E per il mio lavoro, oggi, hanno soprattutto messo a punto e validato questo nuovo rivestimento. Perfetto. Il capitolato del cliente è più che rispettato. Impressionante la nostra abilità industriale dal 1961, quando avvenne la fusione tra Glaver e Univerbel. Glaverbel da allora è diventata una società leader europea nel settore dei fogli in vetro, degna erede della grande tradizione belga nel vetro. D'altronde è la nostra reputazione che nel 1981 ha affascinato il leader mondiale per il vetro piano, il gruppo giapponese AGC. Oggi siamo diventati il ramo europeo e allora sfruttiamo appieno i vantaggi delle sinergie e delle dinamiche generate dalla nostra dimensione mondiale. Ah, ancora mio figlio. Per il mio disegno passo stasera da te in ufficio. Possiamo trovare un esempio migliore di multiculturalità? Circa 13.000 talenti che lavorano insieme per soddisfare i clienti, condividono la stessa visione e gli stessi valori, l'innovazione e l'eccellenza operativa, la diversità, l'integrità, l'ambiente e questo dalla Spagna alla Russia. Bene, la riunione con il nostro cliente per il suo ambizioso progetto di hotel è già cominciata. Mark, il nostro promotore dei vetri decorativi, la fa volare con la fantasia. Le presenta le ultime tendenze in materia di design. Il cliente all'aria soddisfatta, naturale, c'è tutto quanto si possa desiderare, estetica, risparmi d'energia, vetri fotovoltaici e, la mia sorpresa, vetri antibatterici per i bagni e le cucine del suo hotel. E io sono orgoglioso, orgoglioso di appartenere a una società che dedica circa il 70% dei propri investimenti di ricerca e sviluppo allo sviluppo di prodotti e processi sempre più ecologici. Per noi guardare oltre significa preservare anche il nostro futuro. E il mio futuro mi sta aspettando. Non se ne parla proprio di deludere il mio ragazzo. Ce la stiamo mettendo davvero tutta per trasformare il mondo in un luogo più brillante, più luminoso, più bello. Per lui e per tutti gli altri. Grazie. 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 Grazie.